Una card unica per visitare i musei dell'Insubria e nuove modalità di fruizione di un patrimonio di grande rilevanza da scoprire attraverso nuove sinergie tra le realtà museali del canton Ticino, della Lombardia e del Piemonte. Dal convegno che si è tenuto ieri in rete, promosso dai Lions e da Villa Carlotta con la Regio Insubrica, primo confronto finora mai realizzato su questo tema con tutti gli attori in campo, compresi vicini elvetici, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni, delle reti e dei sistemi museali, è emersa la volontà di creare un abbonamento collettivo per tutti i musei del territorio che comprende il canton Ticino e le province di Como, Lecco, Varese, Novara e Verbano Cusiossola. Le parti intervenute si sono confrontate per delineare le strategie operative finalizzate a rendere possibile l'attuazione della Regio Insubrica Musei Card, un utile e semplice strumento di integrazione territoriale trasfrontaliera che unisca gli spazi museali agli itinerari ad essi collegati con l'obiettivo di riprendere consapevolezza di un'identità territoriale e linguistica in parte dimenticata e arrivare ad una promozione culturale e turistica di qualità che incida nel rapporto tra musei e pubblico. Salda la volontà più complessa alla realizzazione, a parte i costi di gestione e amministrazione alle prese con due monete, euro e franco svizzero, la maggior parte dei soggetti da mettere a sistema rispondono a diversi livelli di comando nazionale, regionale e comunale oltre ai siti appartenenti a privati. Inoltre non secondario il fatto che Illario non ha strutturato una rete di musei. I nodi da sciogliere dunque non sono pochi ma la determinazione di riuscire nell'obiettivo è tanta e potrebbe addirittura portare, come è stato spiccato dal tavolo di confronto, a richiedere fondi europei interreg previsti per dialoghi che abbiano quali soggetti partner italiani e non europei.